Benvenuti su Cronaca Nero Sessione. Oggi affronteremo il caso di Olinda e Rosa. La tranquillità di Erba è stata spezzata l'11 dicembre del 2006 da un terribile omicidio multiplo avvenuto durante un incendio in un appartamento in via Manto Diaz. Mentre il fuoco divampava, due coraggiosi vicini di casa, tra cui un pompiere volontario, sono intervenuti per soccorrere gli abitanti. Hanno trovato un uomo ferito, Mario Frigerio, e hanno cercato di salvarlo. All'interno dell'appartamento, invece, è stata scoperta la morte atroce di Raffaella Castagna. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il fumo denso ha impedito di raggiungere altre persone intrappolate al piano superiore. Successivamente, i vigili del fuoco hanno domato un incendio e hanno scoperto quattro corpi senza vita, inclusa una vittima innocente, un bambino.